Non sa più vincere il Fasano, quarto appuntamento consecutivo senza vittorie, ma è prematuro parlare di crisi. Lo 0-0 finale sta più stretto alla team Altamura, che domina ma deve accontentarsi dell'ottavo risultato utile consecutivo. 4-3-3 per il Fasano di Vantisci con Corvino, Acosta e Battista in attacco. Panchina per il nuovo arrivato Farinola, proveniente proprio dalla team Altamura. Nel 3-5-2 di Ciro Ginestra spicca l'assenza per squalifica di dipinto, sostituito dall'exprinari. Sulla sinistra Colella fa rifiatare Casiello. In attacco Sosa vince il ballottaggio con Molinaro per assistere Capitan Croce. Al Vito Curlo decisamente meglio gli ospiti in avvio. Dopo una manciata di secondi, cross di Sosa. Croce prova la correzione con il tacco, ma solo solletico per Ceca. Ben più pericoloso il tandem biancorosso due minuti più tardi, ma la finalizzazione vincente del capitano Altamurano viene annullata da un dubbio offside. Murgiani pericolosi anche da calcio piazzato. Sosa colpisce di testa a botta sicura, ma il suo compagno Bertolo li rispinge la conclusione sulla linea di porta. Al sedicesimo l'altro ex di turno Ganci prova il gol olimpico, attento Ceca nel respingere la minaccia. Al diciannovesimo Sosa di forza si libera di un raite a prima e di di vittorio poi. Si presenta davanti a Ceca, ma questa volta è l'incrocio dei pali a salvare l'estremo difensore fasanese. Non cambia lo spartito nella ripresa. Murtas scippa palla da Silva, ma trova nuovamente dinanzi un muro chiamato Ceca. Al sessantunesimo colossale palagol per i Murgiani. Su rimessa laterale, Croce spizzica di testa per la corrente Sosa che da due passi grazie il fasano mettendo alto. A scuotere i padroni di casa ci prova Corvino. Aggancio e tiro con il destro. Nulla di fatto. Si tratta solo di un lampo isolato. Ancora Timaltamura pericolosa. Settantottesimo. Cross di Colella. Savarese manca la sfera. Murtas se la ritrova lì, ma non riesce a dare né forza né angolo alla sfera. Paraceca. Insistono i biancorossi. Il subentrato Molinaro serve la palla della vittoria Prinari, ma il centrocampista imita il compagno Sosa e mette incredibilmente fuori. Termina 0-0 tra i rimpianti degli ospiti per le tante occasioni sciupate. Un punto d'oro invece per un fasano a passo stanco e sottotono. Classifica che sorride da entrambe. Fasano quinto con 23 punti segue a ruota la Timaltamura con 22. Nel prossimo turno a Fragolese Fasano e Timaltamura Puteolana. In mezzo per i Murgiani l'ostico impegno di Coppa in casa della Cavese.